Caro Energie e siccità con il taglio dei raccolti spingono i prezzi dei prodotti alimentari che fanno segnare un aumento complessivo medio del più 10,7% costringendo i cittadini a tagliare gli acquisti nel carrello della spesa. È quanto emerge dall'analisi di Col Diretti sui dati Istat relativi all'inflazione di agosto rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Arezzo raggiunge l'infelice primato di città dove la spesa è più cara, più 12,9% seguita da Grosseto, più 11,7% e Massa Carrara, più 11,2%. Le conseguenze dell'aumento dei prezzi di pane, pasta, latte, carne e altri prodotti di prima necessità ha spinto più di un consumatore su due a tagliare la spesa nel carrello. Tra i prodotti più penalizzati ci sono frutta e verdura, i cui acquisti sono crollati dell'11% in quantità rispetto allo scorso anno. I consumatori hanno infatti ridotto del 16% le quantità di zucchine, del 12% i pomodori, il 9% di patate, il 7% di carote e il 4% le insalate, mentre per la frutta si evidenza addirittura un calo dell'8% per gli acquisti di arance. Cresce solo la quarta gamma, le insalate in busta. Ma non solo i prezzi dei generali alimentari e delle bevande a salire, la spesa per luce e gas e altri combustibili è un macigno sempre più pesante sui sempre più fragili bilanci familiari. Nel mese di agosto l'inflazione, che misura i prezzi di luce e gas, è cresciuta dell'83,7% rispetto al 62,4% di un mese prima e bene al di sopra della media nazionale 76,4%, una soglia che tutte le province toscane hanno superato abbondantemente, con Massa Carrara in cima alla classifica, seguita al secondo posto da Lucca e al terzo da Grosseto.